Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. È sabato, un'altra volta. Buongiorno a tutti. Il rifiuto del nuovo governo italiano di offrire un porto sicuro ai profughi soccorsi in mare dalle navi umanitarie sta diventando un caso di portata internazionale, del quale tutti parlano. Il Washington Post titolava ieri Francia e Germania spingono l'Italia a aprire i porti a mille migranti in mare. Il nuovo ministro dell'interno, spiega l'autorevole testata statunitense, ha redatto nuove misure sostenendo che le ONG nord-europee hanno violato le procedure previste non coordinando adeguatamente i loro soccorsi e che questo pone le condizioni per la chiusura dei porti. Contestualmente, Piantedosi ha chiesto l'intervento dei paesi cui le organizzazioni umanitarie appartengono. La situazione sul terreno, per modo di dire, visto che di mare si tratta, è come nel 2019. Le navi di soccorso restano in mare aperto per giorni e giorni con i profughi stessi sul pavimento, al freddo, molti febbricitanti. Nel frattempo continuano a arrivare i barconi che sono riusciti a completare da soli la traversata. Dicevo, caso internazionale, in quanto, come riferisce il Washington Post, il ministro dell'interno francese ha chiesto che il porto più vicino faccia entrare la nave di SOS Mediterranea. E il ministro degli esseri tedesco ha fatto lo stesso per quanto riguarda la Humanity One, a bordo della quale ci sono anche 100 bambini. Francia e Germania si sono anche dette disponibili ad accogliere parte dei profughi, di modo che l'Italia non sia tenuta ad accollarsi l'onere da sola. In mare c'è anche, e anch'essa da giorni, la Geobarens di Medici Senza Frontiere. Le Nazioni Unite hanno ribadito che gli stati costieri sono obbligati dalle reggi vigenti ad accogliere le persone dalle navi di soccorso nel più breve tempo possibile. È invece ovviamente di tenore differente, completamente opposto, la stampa ungherese. Da Budapest, Ungarn Hoyte, Ungheria oggi, titola L'Italia si unisce all'Ungheria nella lotta all'immigrazione clandestina. E nel pezzo fa propria la tesi di Salvini, quella che peraltro non è stata mai dimostrata, secondo la quale le navi umanitarie fanno la spola Africa-Italia per andare a prendere direttamente e portare qui i migranti, i taxi del mare, insomma, che tra l'altro appunto sono stati smentiti, anche da un processo che si è concluso non molto tempo fa. Il governo ungherese, leggo ancora, ha più volte elogiato la politica anti-immigratoria del Conte 1, quella di quando c'era Salvini al Viminale per intenderci, dimostrando che quelli che affermano che le migrazioni non possono essere fermate dicono il falso. Nella finanziaria 2023 ci stanno almeno 15 miliardi di euro per aiutare imprese e famiglie a sostenere gli altissimi costi dell'energia. Lo riferisce Euroactive, citando fonti governative italiane. Il governo Meloni, dice, porterà il disavanzo al 4,5% del PIL contro il 3,4% che Draghi aveva previsto a settembre, liberando così la Meloni 21 miliardi circa per le cosiddette misure espansive. Roma, leggo ancora, punta anche a recuperare parte dei quasi 9 miliardi che erano stati previsti per il reddito di cittadinanza del prossimo anno. Notizie che sono arrivate in contemporanea al primo incontro europeo della nuova Premier. Poi ieri sera c'è stato il Consiglio dei Ministri e vedremo meglio nelle prossime ore come sarà andata. Magari ne parliamo domani durante il live. In Europa, continuo ancora con l'articolo di Euroactive, in Europa il commissario responsabile della vigilanza sul rispetto del patto di stabilità è proprio il nostro ex Premier Paolo Gentiloni che sempre l'altro ieri la Meloni ha incontrato a pranzo. Patto, quello di stabilità che, come ricordiamo bene, limita i disavanzi dei paesi dell'Eurozona al 3%, ma che, prima per il Covid e poi per la guerra in Ucraina, è stato sospeso fino al 2024. L'articolo precisa ancora che nel 2023 le finanze italiane sono andate meglio di quanto previsto grazie all'inflazione che ha fatto aumentare anche le entrate fiscali e le accise, circostanza che ha dato a Meloni un migliore margine di manovra per poter espandere l'economia mantenendo per di più il rapporto deficit-pil su una traiettoria discendente. Tuttavia, conclude Euroactive, Meloni ha già detto che non metterà ora in pratica alcune delle promesse elettorali più ambiziose uscite in campagna elettorale dalla sua coalizione. Quindi non si farà adesso la flat tax e non ci sarà adesso nessun aumento delle pensioni. Cambiando argomento, dalla Germania il quotidiano Monopole riferisce del primo scontro piuttosto diretto tra il nuovo ministro della cultura, San Giuliano, e il direttore degli uffici di Firenze, il tedesco Schmidt. Oggetto del dibattito, la chiusura della celeberrima galleria fiorentina lunedì scorso nel bel mezzo del ponte di Ogni Santi. A migliaia di turisti affamati di cultura, detto il ministro, è stato negato l'accesso alle gallerie di pittura e di scultura. Il giardino dei Boboli, per la cronaca, era rimasto aperto. Non sfugga la sua intelligenza, continua ancora la nota del neoministro, che una chiusura di questo tipo, oltre a procurare una grande perdita economica, rappresenta un grandissimo danno di immagine. Schmidt, il direttore, ha ringraziato per la franchezza il ministro, ricordandogli poi però che i musei italiani solitamente sono chiusi al lunedì e non da oggi e che un'apertura speciale per lunedì scorso non è nemmeno stata presa in considerazione causa l'annosa carenza di personale. Gli uffizi, ricorda un altro grande quotidiano, il Guardian da Londra, sono oggi il sito culturale più visitato d'Italia, più del Colosseo, più di Pompei, più dei musei vaticani e il successo va attribuito proprio alla guida del direttore di origine tedesca Eichen Schmidt. Si chiuderà a Torino, il 16 gennaio prossimo, il lungo esilio di Kevin Spacey dalle scene dopo gli scandali sessuali che ne hanno travolto la carriera cinque anni fa. Ne dà notizia Variety dagli Stati Uniti, annunciando una masterclass cui l'attore prenderà parte al Museo del Cinema, nei locali della mole antonelliana. Il due volte premio Oscar, che ha mantenuto un basso profilo dai tempi delle accuse del 2017, da qualche settimana ha ottenuto una prima vittoria legale, come qualcuno ricorderà, quando un tribunale di New York ha dato ragione a lui rispetto alle accuse di un giovane attore che non è riuscito poi alla fine a dimostrarle. Altri procedimenti restano comunque aperti nel Regno Unito e riguardano i tre uomini che lo hanno accusato di molestie nel periodo in cui dirigeva il teatro Old Vic di Londra. Torino, tornando alla mole antonelliana, è anche la città che lo scorso anno lo ha visto tornare sul set del film di Franco Nero, L'uomo che ha disegnato Dio. Era l'ultima notizia. Io vi auguro uno splendido sabato, anche se il tempo non sarà bello in tutta Italia, e vi aspetto domani. Allora, come da sondaggio che ho fatto, ho deciso, abbiamo deciso, di spostare il live della domenica alle 9.30. Quasi tutti ci avete chiesto un orario più comodo e proprio domenica scorsa, che era alle 8.30, ma praticamente era alle 9.30 perché si era appena subentrata l'ora solare, domenica scorsa in diretta c'eravate molti di più. Poi tutti gli altri hanno recuperato col Pottas. Quindi vi aspetto domani ore 9.30 e soprattutto ci conto.